bella ragazzi bentornati qui sul mio canale youtube se mi vedete con gli occhi rossi no non sono fatto no non ho fumato ma sono le 4 e 28 di notte di giorno 29 luglio giorno in cui appunto la mia ragazza fa 19 anni e era l'unico momento per registrare questa parte dato che ultimamente sta dormendo da me quindi è sempre incollata oggi festeggerà con parenti familiari eccetera e cristiano ha preparato la sua magnifica sorpresa e tra tanto tempo volevamo fare un bel viaggio insieme volevamo partire e stare un po' di giorni appunto fuori ma non c'è stata mai la possibilità e quindi ho detto perché non farglielo come regalo di compleanno però per rendere il tutto un po' più speciale ho deciso di nascondere questo regalo questo biglietto di questo viaggio all'interno di una foto o meglio avete presento quelle luci enormi dove si appendono le foto della polaroid perfetto dietro una di queste ci sarà il biglietto nonché questo che lei appunto leggerà che tra l'altro ho fatto ora mentre lei dormiva quindi sto morendo di sonno e appunto perché sto morendo di sonno vi ricordo di passare su instagram di sdk come al solito io vi lascio al video buona visione buongiorno 10 novembre buongiorno 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 me lo compri il criceto come ti senti vecchio eh vabbò tanti auguri a te tanti auguri a te tanti auguri a Dalina tanti auguri a ti ho fatti ieri Wondercio di nuovo mi sento no seduta 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 vuoi il biscottino a no tutto tuo Ok ci stiamo lasciando la mattina E sono le 4 passate E noi stiamo uscendo Guardate che bella E per la prima volta Vedrete una Dalila alla guida Sì per il suo compleanno Ci stiamo andando in un centro commerciale Per vedere cosa Questa a cui si è fissata Che vuole un criceto Io non glielo compro Non l'hai fatto male No amore non volevo farti male Volevi il criceto? Il criceto prenditelo Cristiano tu me lo comprerai il criceto Prima o poi Ma no Cristiano Addio Vado Cristiano Sto prendendo qualcosa veramente Pompieri Nino 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 Come on La sicurezza prima di tutto Soprattutto con lei Allora Buonasera signori Benvenuti a bordo Vai baby Parti Fai vedere chi sei Non vede nessuno E allora fa Madò Madò Con che potenza Attenzione Ragazzi Ma la mia ragazza È Schumacher Così no Salve signora Buonasera Macchina Sto arrivando a 400mila iscritti O forse già ci sono Però ok Tanti auguri a me Le palme Le palme 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 Sono le mie palme Non mi ha sì Guardate le palme Una palme enorme Domineranno il mondo Viva le palme Ti sta buttando a testa Tesoro Ma io sono felice Un po' perché il tuo compleanno Un po' perché si è da 400mila iscritti Un po' perché il tuo regalo è Non te lo dico Non me lo dire È bello però L'ho progettato da un mese Terra ferma Siamo arrivati sani e salvi Brava Dalila Allora sei brava Sì Allora con me la guida Siamo arrivati a casa sani e salvi Non so fare i vlog Cristiano ovviamente non lo sa Che ho registrato questo video Allora dobbiamo prendere una pizza Anzi due teglie Perché siamo 15 persone Sì il gomito nella telecamera Lo metti Vado che ci sono anche i tuoi parenti Dalila quali sono i tuoi gusti preferiti L'americana C'è pomodoro Mozzarela Pioste Le patatine Giusto Sì E Come si chiama quella dell'altra volta Quella dell'altra volta L'orma Quella è l'enzana Tu ogni volta quando registri Stai registrando Fai così Perfetto Allora Viamo con queste due teglie Fantastiche Non riprendere qua C'ho i miei dati Sensibili È arrivato Babbo Natale Mamma te la chiami a Dario Te la chiami a Dario Te la chiami a Dario Dove la chiamare In cucina Babbo Natale è qui con voi Da qui inizierà la sorpresa Perché appunto Devo sistemare tutto Il Il Che vuoi Kira Che c'è Il teatrino appunto Per la sorpresa Però Dario Deve uscire Il teatrino appunto Il teatrino appunto C'è un problema Ma io non so gonfiarli Stico così Non vincerete un stupido palloncino Di merda Senti Anche se è piccolo è buono Stupido palloncino di merda Ok lo step 1 è finito Adesso prendo la chiave Chiudo la chiave E vado di là Bene Che vuoi Diciamo che tu adesso In buono Entri più in camera Perfetto Il primo step è fatto Adesso Il secondo consiste appunto Nel comporre In quella cosa che all'inizio Nel video vi dicevo Però Devo farlo dopo Quindi Adesso devo semplicemente Portare le cose Che ho nascosto Qui in bagno Perché ho detto Almeno qui non le trova E portarle in stanza Chiudere chiave Tac Godermi la serata Chiudere chiave Chi è Chi è Hai per caso visto qualcosa Ti stavo bussando Ma dove Tu sei scappato Sono un flashback Chi la Entra nella cameretta No Ti vuoi il telefonino Davanti Tu guardi Ve lo dici Va bene Sì Sì Grazie Ok Siamo arrivati Al secondo step Abbiamo mangiato Sono di parenti Eccetera Blablabla Adesso stanno preparando Per la torta Per esempio Io devo capire Come preparare Sto specie di cosa Sarà un po' difficile Ma Ce la fanno Come cazzo E dove cazzo Non lo metto No Trenne che Sopra l'armadio Forse l'ho trovato in modo Bisogna chiedere la mano È sicuro Bisogna chiedere la mano Ok Adesso vi spiego Questo qua È il bigliettino Che lei Avrà Messo Qua dentro All'interno Di una foto Tutte le foto Che attaccherò Come adesso vedrete Saranno tutte quante girate Quindi lei dovrà Ad uno ad uno Girarle E Alla penultima O anzi All'ultima Troverà E appunto Questa lettera La aprirà E leggerà Che appunto Si parte Blablabla Vabbè L'avete capito Ok Tutto finito Si può dire Appunto Lei partirà Da qua Dovrà girare Tutte quante le foto Ad uno ad uno E poi arriverà Qui Si sembra Ci arriva L'unione Come altezza Appunto Sotto C'è l'altro Foglio Con la sorpresa E i balloncini Sotto Ok Ora Ci siamo Eppure a te No 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 Niente Ringrazio a tutti quanti Per essere qua E Oh Vi voglio bene Basta E questo è il ricorso E dopo il taglio della torta Sono io in ansia Più di lei Per dare il suo regalo Perché ci tengo abbastanza Ce la meritiamo Una vacanza insieme Quindi siamo pronti Listen to me Ascoltami Metti questa Sì va bene Metti questa Ma sei sicura che la devo mettere Dammi la mano Aspetta Emozioni a caldo Ho l'ansia L'ansia per cosa? Perché Di certo non devo sposare Quindi stare tranquilli No tranquilli L'ansia Questo non avevo pensato Cricetti non sono neanche Non togliere nulla Ciao Fermati qua Ok allora Premetto Che sono stato un mese A farti sta cosa A pensare E tutto Non mi sono fatto sgamare Per fortuna Adesso quello che devi fare È girarti E da sinistra A destra Togliere ogni foto che c'è E rimetterla Al contrario Se ci arrivo Però No ma io l'ultima Non ci arrivo però Quante sono che hai girato già? Nove Secondo bene nove Ok Manca l'ultima Ma sono due C'è io Ragazzi Oggi non mi fissate C'è anche Kira Che mi fissa Aspetta Un attimo Mi devo concentrare Prevala la velige Per una vacanza Con il tuo boy Sulle coste calabresi 5 giorni Con viaggi In prima classe In una suite Con idromassaggio Stanza E qui sta male No aspetta Perché mi chiede Ma hai fatto il che Non l'avevo preparato Eeeh Dovevi Purtroppo no Anche faccio il rischio Ho visto il telefono Quando è che hai il cicluto? Dal notto in poi no? Noi partiamo dal notto al dodici Auguri dai Ti è piaciuto o non ti è piaciuto? Spero che il video vi sia piaciuto A tutti Ogni tanto fare i gesti d'amore E gesti d'amore Perché servono A rallegrarti la vita Noi ci vediamo Nel prossimo video Qui come sempre Nel vostro Dorecchio è tutto Bella